Ciao a tutti ragazzi e bentorni sul canale, come va? Spero che state bene, che state trascorrendo una splendida giornata. Oggi è giorno di visite per Mattia Viti che si trasferirà dall'Empoli al Nizza per una cifra complessiva di 15 milioni di euro, suddivisi in 13 di parte fissa, 2 di bonus, più un 10% sulla futura di vendita riconosciuto all'Empoli. Il giocatore andrà a firmare un contratto quinquennale a 1.1 milioni di euro netti a stagione. Però questa cosa mi ha suscitato un po' di sensazioni negative. Qualche giorno fa ho fatto anche un video sulle parole di Cairo, quindi sul discorso di puntare sui settori giovanili, di costruire i giocatori e di puntare sui appunto giovani calciatori per le prime squadre. Ma come non posso a non vedere questo trasferimento come un ennesimo fallimento del calcio italiano, o meglio dei club italiani, scusate, come potrei mai non considerarlo tale? Molti di voi conoscevano Viti, ma comunque facendo una piccola sintesi, un difeso centrale, classe 2002, che la scorsa stagione ha giocato 22 partite, dopo un anno di semi-apprendistato in Serie B sempre con l'Empoli, ma che è esploso totalmente. Un giocatore fondamentalmente mancino, ma che sa usare anche discretamente bene il destro, ha bene gli anticipi, vigoroso ma poco falloso, pulito. Un giocatore che sa giocare anche l'impostazione, che potrebbe essere ottimo sia una difesa 2 che una difesa 3, salto veramente, ha giocato anche la terzino-sinistro, ma veramente poche volte. 190 cm, ma con una fisicità da 1 di 1,80, mi spiego. Tendenzialmente i difensori di 190 cm sono un pochino considerati come i pennelloni della situazione. Lui invece è una struttura fisica che tende ad essere a normolineo, quindi non gli è tolta la velocità, nonostante la grande mole. Una muscolatura importante, ma non così forte a rendere l'opachidermico, che gli consente insomma di unire doti fisiche a doti tecniche e soprattutto tattiche di intelligenza calcistica. Ma voglio dire, allora, ogni anno si cercano difensori, soprattutto per i top club italiani, soprattutto scarseggioni mancini. Allora, voglio dire, no, abbiamo squadre come l'Inter, la Juve e il Milan, che cercano come il pane un difensore centrale. Soprattutto magari l'Inter, magari un po' di meno, per un discorso di Cessioni-Skrignar, non Cessioni-Skrignar, ma comunque cercavano Bremer, che poi è finita la Juve. Però, allora, ok è un mancino Viti, come Bastoni, e sarebbe una stupidata do dire un Bastoni, o magari consigliare un Viti un vice Bastoni, ma la personalità della lettura è di fare il centrale puro. E onestamente, per queste cifre, 15 milioni di euro, mi sembra veramente assurdo che una società come l'Inter non abbia affondato il colpo. Un giocatore molto più giovane, sono circa 9, no, 10 anni in mezzo di De Vrij, però ha veramente dimostrato Viti, nella scorsa stagione, doti impressionanti. Un Milan, il Milan, allora, sta cercando un centrale, un quarto centrale, perché Gabbia sembra destinato alla Sampdoria. Tanganga, tutto fuori che titolare al Tottenham, classe 99. Abdou Diallo, classe 96, tutt'altro che titolare al Paris Saint-Germain. Ma due soldini per Viti no? Per un giocatore così, d'accordo, si può parlare del discorso di forma di trasferimento, perché comunque, per Tanganga quantomeno si parli di un prestito col diritto, propone il Milan, con obbligo, propone il Tottenham, e ci sarà un motivo perché propone l'obbligo per disfarsi di un 99, che secondo me al Tottenham non avrà mai futuro fisso, quanto meno da titolare. Si era parlato di un interessamento del Milan, ma perché non ci sei puntato subito? Non ci sei puntato, sì, giusto, non ci sei puntato subito sul giocatore. Paura? Perché un Tanganga probabilmente, pensi di fare il Tomo Ribis? La Juventus ha preso Bremmer, e ora per 15 milioni di euro, sembra che possa stringere i prossimi giorni per Milenkovic. 15 milioni anche nella votazione di Viti, ma tra i due io prendo Viti a mani basse, piuttosto che Milenkovic io prendo Viti a mani bassissime. Uno è più giovane, due è Mancino, e a te serve un studio di Chiellini, perché se ti presenti con Bonucci, Brugani, che d'altro potrebbe fare il percorso inverso, quindi andare verso Empoli, quella poi Milenkovic dove stai fare la Juve, Bonucci, dicevo, Brugani, Bremer, Gatti. Un Mancino? No. Se serve un Chiellini, lo stituisci con Bremer, come c'è un Rugani che il suo sviluppo si è assestato a quando aveva 20 anni, e un Gatti che è un ottimo difensore secondo me, ma è un'incognita ad ora sulla carta. Perché non Viti? Perché non ha un profilo così? Ma il mio discorso, il discorso che vi sto facendo, e che argomenti questo video, non è il perché Milan, Inter e Juve non abbiano puntato su Viti, ma è proprio il ragionamento alla base. Perché non affondi il colpo su un giocatore così? E senti nomi? Aberranti. 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 Non che sono cattivi i giocatori, soprattutto Milankovic, Tangang e Deleu, con tutto rispetto, ma insomma, non capisco perché ci si concentri sulle riserve di altre squadre. come se noi fossimo la Serie B della Premier League. Non ha senso. E qui critico il Milan. Perché come l'ho alloggiato tantissimo per De Ketelaer? Non mi sento assolutamente... Sì, Tanganga, Deleu sarebbe un upgrade rispetto a Gabbia, ma a te serve anche uno di prospettiva? E' valido. E un Viti lo sarebbe stato. Allora, se si deve fare un sacrificio, farlo per un italiano, cacchio, un italiano che ha giocato semi-titolare all'Empoli l'anno scorso, ma ha le potenzialità, che può giocare difesa alta perché è veloce per 690 centimetri. Maturo calcisticamente. Bravo nei contrasti. Non lo so, io... A volte sembra quasi che... faccia paura acquistare un giovane italiano anche se è talentuoso. E non lo so. E magari chi, eventualmente, fossi i guventini, che mi dicono sì, vabbè, abbiamo già preso Gatti, anche i Viti, non è una garanzia... la Juve ha fondato la sua difesa, diciamo, titolare di ormai quasi più di vent'anni fa, quando Montero arrivava dall'Atalanta, poi Giuliano arrivava dalla Sernitana. Ragazzi, cosa ci stiamo raccontando? Conto Riccelli che, ripeto, anche se ben altri anni prima, ben più anni addietro, insomma, veniva dalla Karatese. Quindi, non guardiamo il nome, la provenienza. Certo, se poi dici un venticinquenni che mi ha giocato due partite in tre anni, non lo vai a prendere. Ma non guardiamo la provenienza, guardiamo le abilità, non guardiamo la nazionalità, perché fa un po' più figo, ma le potenzialità attuali, eventualmente le future. Perché il futuro, secondo me, si chiama Tia Viti per difesa italiana. E noi, cosa facciamo? Giustamente, l'Empoli lo fa cedere a chi deve soldi, ma noi, immobili, e continuiamo a vedere giocatori stranieri che vengono in Italia e magari il 20-30% fa una buona carriera. E non mi sento di dire alto, perché poi scadrei, diciamo, in in argomenti un po' troppo spinosi, però insomma che chi mi segue da un po' di tempo vendo i miei video anche sulle nazioni italiane capirà, capirà. Così come capiranno l'errore i top club italiani, secondo me. Mattia Viti è una bella perdita e secondo me il calcio italiano non si meritava, ma dopo tutto è avvenuta per un'inerzia da parte dei club italiani, in primis, i primi colpevoli. Ovviamente fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questo trasferimento, dopo anche quello di Lucca che è stato all'Ajax, mi capisco se fichi, però ripeto, fatemi sapere cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile e vi è tenuto compagnia per questi 10 minuti più o meno, mi raccomando, lasciate un'altra video di scritto alla campanellina, passatemi a trovare sul gruppo Telegram e mi raccomando, un occhio speciale alla playlist presentazione di calciatori dove c'è panni per i vostri denti calciofili. Vi mando un abbraccione e ciao al prossimo video. Ciao ragazzi.